Buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare, spero che mi sentiate. Intanto do il benvenuto a Linda Laura Sapatini, che vedo collegata sullo schermo, oltre ovviamente a tutte le persone che ci stanno seguendo su Zoom per questo primo incontro della Primavera delle Idee, per quanto mi riguarda. Poi ovviamente Italia Viva ne ha già organizzate tante su vari argomenti e sono molto contenta di iniziare innanzitutto con un tema che mi sta molto a cuore e riguarda appunto la parità di genere e in generale l'empowerment femminile e poi di farlo con Linda Laura Sapatini, che è sicuramente una delle massime esperte nel nostro paese e non soltanto nel nostro paese, nonché una pioniera. Essendo un po' anche la prima occasione di incontro, spieghiamo un po' così come funzionerà questa nostra chiacchierata. Ovviamente Linda Laura Sapatini farà una sua introduzione sul tema che abbiamo scelto per il confronto di questa sera, ci sarà un po' una chiacchierata tra noi due e chi vuole rivolgere delle domande, approfittando appunto soprattutto della presenza di Linda Laura, può sulla nostra chat porre delle domande, alcuni vedo che lo stanno già facendo e quindi poi cerchiamo anche di rispondere alle domande e alle richieste, in qualche modo di stimoli che possono arrivare da parte di chi sta seguendo. Penso che molti di voi conoscano Linda Laura Sapatini sicuramente attraverso i suoi articoli, i suoi approfondimenti su Repubblica e prima sulla stampa, quindi la conosciamo attraverso il suo lavoro anche come editorialista su questi temi, ma anche per quello che è stato il suo impegno da sempre come statistica e come direttrice dell'Istat anche attualmente, proprio essendo pioniera, lo dicevo prima, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, in molti casi poi non soltanto europeo, di un modo diverso di affrontare dati alla mano proprio le questioni di genere, perché come spesso diciamo, per decidere bisogna prima conoscere, quindi partire dai dati oggettivi. Questa sera Linda Laura è con noi però per una veste, un ruolo specifico che ha in questo periodo, al di là ovviamente della sua professione, perché è stata incaricata di un ruolo molto importante, in qualche modo presiede il Women 20, che è diciamo una occasione, io la chiamo un'opportunità anche questa, sicuramente fondamentale all'interno del G20, nell'ambito del G20 che quest'anno avrà la presidenza italiana, quindi ospiteremo nel nostro paese, e sostanzialmente questo gruppo di lavoro che rappresenta la società civile, ma possiamo dire anche le migliori esperienze, forze e competenze proprio sul tema anche dell'empowerment, delle parità di genere, proporrà al poi consesso finale dei leader del G20, delle proposte concrete che i leader del G20, quindi dei paesi più industrializzati ed emergenti, che comunque rappresentano circa l'ottanta per cento del PIL mondiale, quindi insomma un'occasione molto importante, proprio su queste tematiche. E proprio per questo ci faceva piacere cominciare la nostra riflessione anche con una valutazione più generale sul punto di partenza, su dove siamo, che cosa possiamo fare ancora di più, e sicuramente il lavoro è molto, e come ci prepariamo ad affrontare il G20 e quello che ci aspettiamo anche come Italia possa emergere dal G20, sapendo che è tutt'altro che facile raggiungere delle conclusioni condivise. Lo so anche perché con Linda Laura abbiamo condiviso l'esperienza del G7 sulle pari opportunità a Taormina, quando abbiamo ospitato la prima ministeriale sulle pari opportunità a Taormina con la presidenza italiana del G7, col governo Gentiloni, e anche sulla roadmap finale proprio dei leader del G7. Non è stato facile raggiungere dei punti condivisi, penso sarà ancora più difficile in un ambito più esteso come quello del G20, dove ci sono anche paesi che hanno sensibilità su alcuni temi molto diversi, e sono però occasioni fondamentali, ce lo ricorda, ovviamente non voglio trascinare Linda Laura in una polemica, la faccio io perché l'ho già fatta pubblicamente in questi giorni, direi che anche i fatti più recenti di cronaca politica e di politica estera ci dicono che quelle che sono le conquiste che noi immaginiamo come ormai acquisite e definitive in tema di parità di diritti tra uomini e donne non lo sono, sono rimesse in discussione quotidianamente, penso ovviamente al caso della Turchia, non soltanto con l'uscita molto grave della Turchia dall'impegno della Convenzione di Istanbul qualche settimana fa, ma anche con l'episodio tutt'altro che secondario, tutt'altro che di cerimoniale, ma di sostanza e di politica estera del trattamento ricevuto dalla Presidente della Commissione Europea proprio ad Ankara da parte del Presidente Erdogan, su cui poi il nostro paese ha avuto anche parole molto nette, molto chiare attraverso anche il Presidente del Consiglio. Quindi diciamo che il clima, l'atmosfera con cui ci apprestiamo ad affrontare questo G20 sicuramente non è delle più semplici, quindi ne ringraziare ancora Linda Laura Sappadini per la sua presenza stasera, che ovviamente è una presenza, lo sapete bene, per chi ha già seguito i nostri confronti come Primavera delle Idee, che è una disponibilità a confrontarsi su alcuni temi da parte di esperti di quelle materie, di persone che rivestono un ruolo diciamo istituzionale o comunque professionale su quelle materie, la ringrazio per questa disponibilità e cedo subito la parola a lei così da darci un quadro generale di partenza. Aspetta che ti liberiamo il microfono, altrimenti non ti sentiamo, eh? Silenzio il mio. Adesso? Si sente? Ok. Allora, grazie mille, intanto sono molto contenta di essere qui, del vostro invito e quindi cerco di avviare un pochino di riflessioni sulla situazione che stiamo vivendo e anche un po' sulle strategie che ci stiamo dando come Women to Enti, perché è molto importante anche questa condivisione che si è avviata con tutte le delegazioni dei venti paesi, tra cui uno è anche l'Unione Europea, per stabilire una roadmap e quindi una strategia un po' più consistente di quello che non è stato fatto, diciamo così in passato, a livello di G20. Allora, partiamo intanto da una considerazione. Noi sappiamo che stiamo passando un periodo particolarmente difficile per la pandemia, che è, diciamo, alla base dei grandi problemi globali a cui siamo di fronte. E questo per un motivo molto semplice, che da un lato stiamo vivendo la crisi pandemica, ma questa si sovrappone ad altre due questioni cruciali, che sono, da un lato, la rivoluzione tecnologica e dall'altro la crisi climatica, quindi i cambiamenti climatici, eccetera, che pongono delle sfide enormi da un punto di vista delle politiche globali. Per di più, diciamo, che il combinarsi di questi tre aspetti pone un problema grandissimo sul fronte delle politiche di genere. Perché in realtà questa pandemia, seppure ha portato un rischio di morte superiore per gli uomini, da un punto di vista della situazione, diciamo così, dell'occupazione, è stata una pandemia che ha colpito in particolare le donne. E questo è un fenomeno assolutamente mondiale, è stato chiamato She Session, recessione al femminile, perché un po' in tutti i paesi i settori che sono stati colpiti sono stati proprio i settori dei servizi, in particolare quei settori dove molto più presente sono le donne. Questo è un fatto, diciamo così, di assoluta novità, perché di solito le crisi ultime, quella nel crollo dell'occupazione nel 2013, nel 2008-2009, ma anche agli inizi degli anni 90, hanno sempre visto un crollo di occupazione maggiore per la parte maschile che non femminile, perché era l'industria il cuore, diciamo così, di queste crisi, molto più che non i servizi. Ora sono stati i servizi, le donne hanno pagato il fatto non solo di lavorare più nei servizi, ma di avere lavori più precari e lavori più irregolari. E quindi questo le ha rese più vulnerabili nei confronti proprio delle capacità anche di resistenza e più vulnerabili, perché è anche più difficile nei confronti di queste forme di lavoro, adottare delle misure di tutela, perché una cosa, la cassa integrazione per esempio è stata presa nel nostro paese nel 75% dei casi da uomini, non da donne, perché ha coperto, ma di più, diciamo, quei settori, soprattutto industriali, dove la mano d'opera maschile è superiore, così anche i blocchi dei licenziamenti, più difficile intervenire sul fronte dei contratti a tempo determinato o ovviamente anche di, soprattutto di lavori irregolari, perché è una porzione comunque che in molte zone del nostro paese è presente proprio nei settori che sono stati più critici. Detto questo, questo significa però che di fronte abbiamo delle sfide molto grosse, l'uscita dalla recessione non è una cosa facile, c'è stato però un'Europa che ha dato una svolta in senso, diciamo così, solidaristico, il che significa che i duecento miliardi che arriveranno sono un tesoretto preziosissimo in termini di possibilità di rilancio e anche di profonda, diciamo così, innovazione, chiaramente la cosa importante è che si riesca a fare in modo che questi fondi siano effettivamente orientati anche sulla questione della parità della parità di genere. Questo lo dico perché lo dico perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che abbiamo un ritardo diciamo storico sul fronte delle strategie per la parità di genere, per l'uguaglianza di genere, un ritardo storico che viene da lontanissimo perché mentre diciamo nei paesi nordici che sono stati i primi queste strategie si sono avviate man mano che le donne sono entrate nel mercato del lavoro addirittura fin dagli anni cinquanta. Noi siamo arrivati tardi diciamo per esempio anche a barare congeli parentali ci abbiamo dovuto aspettare il duemila e abbiamo per anche la mole di debito pubblico che si era accumulato negli anni è stato sempre questo è stato un elemento sempre più di ostacolo per poter liberare risorse e investire adeguatamente in quelle che possono essere politiche sociali che sono fondamentali per liberare le donne da un carico di lavoro familiare che è particolarmente elevato noi siamo il paese diciamo nell'Unione Europea che più paga questo prezzo perché la divisione dei ruoli all'interno della coppia è molto più asimmetrica la situazione è migliorata soprattutto con le nuove generazioni però è molto più asimmetrica perché da un punto di vista dei servizi sociali lo stesso si è investito molto di meno che non in altri paesi la Van der Leyen per esempio quando è diventata quando è diventata ministra si è molto spesa su questo fronte ha fatto fare grossi passi in avanti no? alla Germania la Francia una tradizione molto più avanzata della nostra noi stiamo facendo dei passi adesso vedi l'assegno per i figli no? superando la logica la logica dei bonus no? che invece diciamo partendo con un disegno che è un disegno più complessivo di razionalizzazione però su fronte ai servizi ovviamente abbiamo siamo molto arretrati abbiamo una legge del settantuno disegno di legge avvarato sessant'anni fa sui nidi pubblici e oggi abbiamo ancora il dodici per cento di bimbi che vanno ai nidi pubblici oppure addirittura la legge sull'assistenza del duemila che era stato un passo in avanti importante insieme con congiati parentali no? in realtà poi non è stata applicata quindi dobbiamo recuperare dobbiamo recuperare il tempo perduto e quindi è necessario sfruttare questa grande opportunità quindi io mi auguro che questo venga fatto adeguatamente proprio con la parità di genere è considerata un obiettivo trasversale però è fondamentale che noi riusciamo a misurare l'impatto di tutte le politiche in un'ottica di genere e soprattutto riusciamo a fare in modo che una fetta di questo recovery che per ora è vincolata al cinquantasette per cento su due settori che purtroppo cioè che sono due settori importantissimi perché transizione ecologica e digital sono due settori fondamentali e l'abbiamo detto sono le altre due grandi rivoluzioni che sono in atto e su cui bisogna attrezzarsi cioè cambiamenti climatici da una parte rivoluzione digitale dobbiamo stare al passo però abbiamo la necessità anche di vincolare e mettere una fetta importante sulla questione donne proprio perché dobbiamo recuperare quello che altri invece non hanno da recuperare dobbiamo recuperare in cui su questo si è investito non si è investito praticamente perché c'è un c'è stata un po' una cultura che si è come dire si è protratta nel tempo per cui le politiche sociali non sono state viste come un punto strategico fondamentale poi su questo che riguarda più il nostro paese secondo me un grosso sforzo noi stiamo facendo a livello internazionale come Women Twenty per far sì che si adotti una strategia di genere che punti effettivamente sull'empowerment delle donne e non si metta in un'ottica difensiva su questo anche con Maria Elena Bosch anche a suo tempo quando appunto anche a proposito del G7 ma nell'azione diciamo nell'interazione puntavamo si interagiva molto su questo aspetto cioè noi dobbiamo considerare che le donne non sono un soggetto svantaggiato le donne sono la metà del paese e quindi in sostanza l'ottica non è quella di includere le donne l'ottica è sfidante l'ottica è quella di agire su questa parola che è stata che è emersa dalla conferenza mondiale di Pechino e che era empowerment che non è soltanto come a volte si banalizza no? Cioè l'empowerment in quanto numero di donne che si trovano nei luoghi decisionali quello è uno degli aspetti l'empowerment è in primo l'empowerment deve esprimersi su tutti i fronti cioè è la grande sfida che le donne possano effettivamente scegliere di essere quello che vogliono essere che possano effettivamente superare tutti gli ostacoli che che si frappongono alla possibilità di realizzazione su tutti i piani sul piano familiare sul piano della vita lavorativa su tutti i fronti anche sul piano della carriera che sappiamo essere uno dei punti critici che abbiamo di fronte allora per fare questo però per adottare un approccio che sia veramente di empowerment e non semplicemente di inclusione perché inclusione significa includere è un termine è un'ottica che va bene per un soggetto diciamo così svantaggiato per una minoranza le donne sono più della metà del paese quindi noi dobbiamo avere un'ottica che è molto più avanzata e nella nell'approccio che stiamo avendo a livello di women abbiamo cercato di allargare il campo allora abbiamo cercato di allargare il campo tra l'altro con questo ci stiamo ci stiamo confrontando sia con gli altri engagement group della società civile sia con la ministra con la ministra Bonetti perché è importante su questo creare una interazione le donne devono essere unite nelle battaglie fondamentali strategiche che portano avanti allora che abbiamo pensato primo che non si poteva continuare ad affrontare i temi soltanto da un punto di vista economico quindi tradizionalmente il G20 ha sempre affrontato di più quelli e quindi imprenditoria finanza lavoro digital sono stati tre grossi blocchi che ovviamente su cui noi ci stiamo ci stiamo lavorando avremo il summit a luglio ma di aggiungere a questi due questioni fondamentali uno è quello della violenza contro le donne perché ovviamente con la pandemia questo problema della violenza esploso soprattutto domestica esploso in tutti i paesi del G20 e l'altro quello del green tra l'altro questo si sposa con il fatto che anche la presidenza italiana proprio del G20 ha scelto l'ha chiamato il programma delle tre P People Planet Prosperity quindi è molto legato a questo la cosa importante però che abbiamo sottolineato e vogliamo fare di questo un punto qualificante che proprio per aumentare la libertà femminile perché questo noi vogliamo raggiungere dobbiamo assolutamente combattere gli stereotipi di genere questo non è una cosa banale perché gli stereotipi di genere sono dei processi cognitivi inconsapevoli a volte automatici quindi inevitabili non è che noi li potremo mai eliminare non ci si riuscirà però è fondamentale che i governi stanzino dei fondi per piani proprio che favoriscano questa consapevolezza tra i cittadini la consapevolezza dell'esistenza di questi stereotipi e del fatto che questi distorcono la realtà in tutti i campi sia sul fronte formativo che su quello lavorativo e anche della stessa intelligenza artificiale perché se ci sono solo uomini che progettano e che fanno gli algoritmi nelle squadre di programmatori eccetera di data scientist il problema vero di fronte a cui ci troviamo di fronte è che gli stereotipi addirittura potrebbero riprodursi ancora di più allora la cosa importante è che in realtà questi partono dall'infanzia vengono interiorizzati diventano quasi delle autoprescrizioni di modelli di atteggiamenti comportamenti a cui aderire e se tu non aderisci e da bambino sei portato aderire subito perché se no viene socialmente sanzionato e quindi è fondamentale cominciare a darsi strategie ma anche nel nostro paese cioè creare un percorso fin da quando i bimbi sono piccoli nel percorso scolastico per battere su questi aspetti no? Quindi puntando all'educazione e alla cura per i bambini maschi anche per i bambini maschi puntando all'educazione finanziaria ai primi elementi fin quando sono piccoli una cosa importantissima rivedendo i testi scolastici delle primarie che ci si trovano delle cose terribili è una cosa importante che vorremmo che si facesse e che addirittura si potessero inserire delle materie in tutti i corsi di laurea sugli stereotipi perché anche un ingegnere informatico tutti devono essere coscienti che nel loro lavoro li possono riprodurre questa è una battaglia proprio di civiltà eccezionale perché se noi riusciamo a fare questo questo significa che creiamo perlomeno diminuiamo tutta quella fetta di stereotipi di genere che deriva dall'inconsapevolezza certo poi c'è chi è convinto che invece gli stereotipi di genere debbano mantenere quello sarà più difficile da coinvolgere ma molto spesso questa questione degli stereotipi avviene inconsapevolmente quindi più riusciamo a intervenire in questo senso meglio è role model cambiamento dei libri di testo ci stiamo inventando molte cose anche abbiamo costituito e presenteremo a breve una commissione che si occupa proprio di questo a livello internazionale e che vuole proprio arrivare a fare una lista di nomi di donne che devono sempre stare nei libri di storia perché come sappiamo nei libri di storia le donne sono invisibili ovviamente importantissima anche la questione sanità non mi ci soffermo ma su un punto chiederemo fortemente che venga affrontato e cioè la medicina di genere su questo ancora sono pochi i paesi che stanziano fondi di ricerca adeguati e mentre invece è una questione fondamentale perché su questi aspetti è necessario che l'ottica di genere venga assunta anche nella medicina perché molto spesso le cure i farmaci le terapie che vengono adottate non tengono conto della diversità dei corpi del corpo maschile del corpo femminile delle differenti reazioni che donne e uomini possono avere di fronte a questo io per ora mi fermo qui magari poi interagiamo meglio grazie e intanto ti riporto alcuni complimenti che ti sono arrivati in chat per questa introduzione e devo dire che ha colpito molto perché al di là delle domande poi giustamente chi ci ascolta utilizza la chat anche per commentare quello che ascolta che stai dicendo ha colpito molto il tuo riferimento alla consapevolezza delle donne dei propri diritti delle proprie opportunità e quindi considerarsi non tanto appunto un soggetto da includere perché svantaggiato diciamo così ma un soggetto che rivendica in qualche modo i propri diritti e la parità di opportunità quindi questo riferimento all'empowerment in modo molto molto determinato molto proattivo e devo dire ha colpito tante forse un modo anche indiretto di rispondere a una domanda che c'era arrivata da Domenico che facendo forse una riflessione a voce alta diceva ma come mai gli uomini sono spesso così ingenerosi con le donne e in parte è vero in parte forse noi ci siamo anche abituati a conquistarceli gli spazi diciamo che niente ci è stato concesso così come grazia ricevuta ma abbiamo dovuto conquistarci tutto con molta fatica passo dopo passo ma forse un elemento positivo di un minimo di cambio culturale che c'è stato negli ultimi anni è che probabilmente rispetto anche alla generazione che ci ha preceduto anche gli uomini sono più consapevoli della propria responsabilità in questo percorso e nella necessità che ci sia anche un loro coinvolgimento soprattutto da parte di chi ha ruoli di responsabilità politica istituzionale dentro le aziende quindi non soltanto nella parte politica e forse molta di questa possibilità anche di empowerment vero e di parità che tu giustamente hai detto comincia fin dall'età precoce diciamo in cui siamo in cui siamo bambini a cominciare anche dal superimento degli stereotipi di genere sicuramente deriva dall'educazione dove quasi nessuno può sostituirsi alle famiglie che giocano un ruolo sicuramente importante ma in cui la scuola può fare tanto soprattutto questa è stata la mia piccola esperienza anche quando appunto mi sono occupata più da vicino di fare opportunità per quelle famiglie in cui talvolta sono i propri bambini la chiave di accesso addirittura al mondo degli adulti cioè per superare quegli stereotipi o quelle discriminazioni se non addirittura avere proprie violenze che ci possono essere nel mondo degli adulti quindi la chiave di accesso sono i bambini che diventano quasi educatori provocatori dei genitori per questo la scuola può svolgere un ruolo importante abbiamo cercato di destinare delle risorse anche a dei progetti specifici sull'educazione e sulla formazione ma probabilmente questa empowerment passa anche dalla possibilità di avere parità di accesso all'istruzione alla formazione e poi al mondo del lavoro perché su questo tu hai sempre insistito molto a cominciare dai tuoi studi anche proprio per la conferenza di Pechino forse anche sul tema del lavoro non retribuito della parità proprio in ambito professionale e occupazionale tra uomini e donne temi purtroppo ancora molto attuali sfide ancora aperte ed è un tema che ho visto torna anche in molti degli interventi perché tu hai ricordato una misura molto importante l'assegno universale che è inserito nel Family Act quindi in una riforma che la ministra Bonetti ha portato avanti che è stata approvata proprio di recente in Parlamento e che adesso dovrà essere attuata attraverso il lavoro della ministra Bonetti e del governo che è sicuramente una misura molto importante ma che rientra in un quadro più generale in cui se non si garantiscono appunto servizi e non si a volte obbligano anche i padri ad assumersi le stesse responsabilità genitoriali in termini per esempio anche di congedi obbligatori dal lavoro è difficile garantire questa piena parità a livello occupazionale tra uomini e donne e poi di possibilità di crescita di carriera di leadership che non si può raggiungere soltanto attraverso le norme antidiscriminatorie attraverso le cosiddette quote rosa diciamo così per farla breve questi sono interventi che diciamo tornano nelle domande che sono arrivate e quindi che in qualche modo ti rigiro da un lato cosa si può fare in primis diciamo così per migliorare questa parità di accesso al lavoro oltre ai congedi parentali a cui abbiamo accennato l'assegno universale però quello che è un vero e proprio piano del lavoro diciamo così di cui abbiamo bisogno per quanto riguarda l'occupazione femminile e dall'altro c'è una domanda molto puntuale anche su cui possiamo ragionare insieme perché non è facile la risposta come aiutare le aziende soprattutto quelle più piccole a prepararsi rispetto alla possibilità di gestire le opportunità che arriveranno con le risorse del recovery fund con i progetti che con il PNRR quindi questo piano nazionale che viene predisposto per utilizzare i 209 miliardi poi in realtà sono un po' meno quelli concretamente a disposizione di progetti nuovi ma insomma una ingente mole di risorse a livello europeo che arriveranno nel nostro paese e questo ovviamente anche nell'ottica di non disperdere quelle risorse ma di poterle utilizzare al massimo per l'occupazione femminile perché come dicevi prima anche tu molte di queste risorse andranno sulla transizione ecologica sulla transizione digitale ma se non ci sono io li chiamo dei correttivi diciamo delle attenzioni degli alert chiamiamoli come vogliamo perché siano destinate in parte anche finalizzato all'occupazione femminile rischiamo di aumentare il divario occupazionale tra uomini e donne con queste risorse anziché diminuirlo invece una delle potenzialità di queste risorse del recovery è quello proprio di diminuire la distanza tra occupazione femminile e occupazione maschile ti lancio questi primi spunti poi nel frattempo magari io sono stata lunga nella domanda se tu sei sintetica nella risposta poi però ok allora che cosa fare la prima cosa secondo me che ci dobbiamo dobbiamo ragionare su questo la prima cosa fondamentale per far crescere l'occupazione femminile è che dobbiamo agire per sviluppare occupazione strutturale questo significa che noi dobbiamo agire in primis su quei settori in cui normalmente tra l'altro l'occupazione femminile è già molto presente sanità istruzione assistenza cioè tutti tutti questi settori noi siamo sottodimensionati come paese la percentuale di occupati no occupati complessiva quindi uomini e donne nella sanità è più bassa la percentuale di eh occupati nell'istruzione di occupati nell'assistenza è più bassa degli altri paesi europei chi ha chi è stato penalizzato da tutto ciò dal non aver investito adeguatamente in questi settori le donne perché due terzi degli occupati in questi settori sono donne quindi uno dei motivi tra l'altro per cui le donne hanno questi bassi tassi di occupazione è anche dovuto al fatto che noi abbiamo meno della metà degli infermieri della Germania per fare un esempio in rapporto al numero di abitanti no però gli infermieri chi sono in gran parte sono donne più di due terzi sono donne lo stesso tra gli insegnanti lo stesso insomma cioè la prima cosa che bisogna riprendere in mano quello che non si è fatto in tanti anni e cioè al centro politiche e sociali sviluppo di servizi educativi per l'infanzia adeguati sviluppo di potenziamento della sanità inutile dirlo dopo la pandemia e sviluppo di interagire per ricordare che per esempio quando è fatto parte della commissione Colau che voi ricorderete era una commissione di esperti che il governo Conte aveva istituito proprio per cominciare a ragionare diciamo di riforme possibili di come utilizzare al meglio le risorse tu ti sei molto battuta perché anche sugli asili nido venissero inseriti degli obiettivi da raggiungere in modo di imprevo e non soltanto diciamo esatto esatto con obiettivo generico sì e infatti lì la commissione Colau prese posizione con il 60% di bimbi ai nidi e questo è importante ovviamente il recovery non è ci risolve tutto però se tu riesci a coprire il 60% nella costruzione e ristrutturazione dei nidi poi ovviamente devi mettere le spese correnti in bilancio per le spese per il personale eccetera perché il recovery ti copre sugli investimenti però fai già un balzo perché tutte queste misure sull'assistenza noi stiamo sotto zero cioè abbiamo investimenti molto carenti eppure il care è una cosa fondamentale la cura degli anziani dei disabili tutti questi aspetti noi siamo molto indietro perché è tutta sulle spalle delle famiglie e soprattutto delle donne dentro le famiglie sai cosa scrive su questo intanto ti dico così vedo anche i commenti che arrivano che le donne sono una specie di sandwich schiacciato tra la cura dei figli e quella dei genitori anziani ha perfettamente ragione questa è una definizione che Rosalba dice mi pare e che avea tirato fuori Chiara Saraceno la chiamava proprio così la cosa che è diventata è che adesso questo sandwich si è spostato come età perché le donne le vere donne sandwich molto di più sono le nonne le nonne che hanno i genitori anziani non autosufficienti e nello stesso tempo i nipoti di cui farsi carico per aiutare figli e nuore nell'ingresso nel mercato del lavoro perché prima le figlie e le nuore non lavoravano o lavoravano molto meno negli anni sessanta eccetera adesso le donne giustamente vogliono realizzarsi su tutti i piani allora quindi sul discorso occupazione occupazione strutturale in primis togliamo sto gap questo ci porta uno diminuzione la povertà perché se cresce occupazione femminile diminuisce la povertà due diminuzione altre disuguaglianze perché se tu fai i nidi diminuiscono le disuguaglianze tra bambini se tu fai assistenza per anziani per disabili diminuiscono le disuguaglianze tra anziani tra disabili perché chiaramente soltanto alcuni si possono permettere di avere l'abbadante di avere un'assistenza in casa cioè la maggior parte non ce l'ha questa possibilità bisogno di un sostegno pubblico fondamentale questo è un livello poi c'è l'imprenditoria sull'imprenditoria femminile dobbiamo investire tanto le donne sono molto innovative anche su questo fronte allora lì l'investimento va fatto tenendo conto pure che abbiamo bisogno di nuove imprese femminili soprattutto che coprano le giovani formazione adeguata accompagnamento nella costruzione delle imprese magari per i primi tre anni e quindi anche su questo bisogna pensare di mettere di mettere cifre consistenti perché poi ricordiamocelo le giovani è un problema serissimo noi siamo ultimi tasso d'occupazione femminile venticinque trentaquattro anni stiamo dietro la cresce per il tasso su questo anche perché poi so che i tuoi tempi sono anche stretti giustamente ci sottolineano hai ragione a parlare dell'occupazione nella fascia giovanile poi dice il problema è anche in alcuni casi delle donne che magari escono dal mercato del lavoro per la gravidanza spesso per la seconda gravidanza o perché si devono occupare in famiglia di qualcuno e poi fanno fatica in un'età più matura a rientrare nel mondo del lavoro senza considerare le donne che sono già nonne quindi hanno i figli i nipoti a cui guardare questo è giustissimo questo è il problema serio che abbiamo sono troppe le donne che interrompono il lavoro che interrompono il lavoro dopo la nascita dei figli e questo porta anche al fatto da un lato interrompono il lavoro dopo la nascita dei figli sono il 20% quindi tantissime ma dall'altro c'è anche l'altra faccia della medaglia cioè non li fanno proprio poi i figli per le difficoltà che ci sono perché o tu hai nonne a disposizione che ti supportano e cioè hai un lavoro che ti garantisce la possibilità un marito un compagno che condivide con te le responsabilità familiari sono troppe le variabili in gioco tutto rema contro quindi veramente se investiamo su servizi più congedi di paternità facciamo grandi cambiamenti culturali perché poi questi vanno si affiancano si fa un balzo noi la cosa io l'ho scritta nell'ultimo pezzo di Repubblica che ho scritto cioè ho detto dobbiamo dare una spallata su questa cosa delle infrastrutture sociali e della parità di genere una spallata cioè non si può più andare avanti con i piccoli passi ora va fatto un balzo e quindi bisogna avere il coraggio di investirci decisamente così come l'Europa ci ha detto di farlo per la transizione ecologica il digital bisogna mettere questa come priorità con finanziamento però serio adeguato che garantisca questo balzo io ti ringrazio non ti voglio ovviamente interrompere ma so che ci eravamo dati più o meno questo tempo diciamo del nostro incontro anche perché Linda Laura ci ha fatto diciamo questo regalo di essere con noi ma i suoi impegni sono sono molteplici anche in vista del G20 quindi nel ringraziarti ovviamente per questa disponibilità ci tengo anche rispetto alle molte domande che stanno arrivando spunti anche racconti magari autobiografici di molte donne e delle difficoltà che hanno incontrato nel coniugare la vita professionale con la vita familiare che questo era un primo incontro e ci tenevo che fossi tu diciamo ad aprire questa serie di incontri proprio per inquadrarci i vari temi a 360 gradi poi da qui a fine giugno perché noi con questo percorso di primavera delle idee ci siamo dati appunto l'arco della primavera per pertenere questi incontri mi piacerebbe quindi diciamo un impegno che prendo anche con chi ci sta seguendo adesso fare degli incontri di approfondimento su alcuni spunti che ci hai dato sia sulle tematiche del lavoro che sono molto importanti della medicina di genere quindi magari riuscire a fare degli incontri di approfondimento su questi diciamo fari che ci hai acceso su su vari temi e scusa se uso questa informazione di servizio però siccome molte delle persone che ci stanno scrivendo ci stanno anche dicendo che vorrebbero farci avere delle proposte concrete che io trovo sempre interessanti perché anche per chi come me poi è in Parlamento avere degli spunti delle proposte delle idee da trasformare magari iniziativa politica legislativa parlamentare è molto importante che chi vuole ovviamente può usare il mio indirizzo email istituzionale che si trova sul sito della Camera quindi è molto facile per inviare materiali proposte che leggeremo oltre ad avere raccolto ovviamente tutti gli interventi in chat e poi l'impegno è per chi avrà voglia appunto di proseguire con altri incontri di approfondimento sui singoli temi e quindi proseguire diciamo questo tipo di confronto nel frattempo ti ringrazio il nostro obiettivo finale dopo questi tre mesi di primavera delle idee è anche di trasformare appunto in iniziative concrete i confronti che abbiamo con delle proposte puntuali poi noi abbiamo la fortuna di avere la ministra Elena Bonetti che è disponibile ovviamente anche a farsi motore di alcune di queste proposte comunque portare avanti molte delle riflessioni che abbiamo fatto chiudo con una oltre ovviamente augurarti buon lavoro un grosso in bocca al lupo perché rappresenti tutti noi insomma in questo lavoro al G20 che stai affrontando anche nel dire che mi fa molto piacere che nei tanti interventi in chat che ci sono stati molti di donne ma anche alcuni di uomini devo dire si è puntato tanto 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 sul tema dell'educazione della formazione e del superamento degli stereotipi di genere cominciando fin da piccoli perché quella è la vera sfida culturale e forse in qualche modo dà anche ragione della scelta del titolo di oggi è tutto nelle nostre mani che riprende in realtà un'espressione di Eleanor Roosevelt che però è la verità cioè quello che ci costruiamo che sia G20 che sia il recovery fund ma in generale la società nella quale vogliamo vivere anche a livello appunto culturale dipende da noi è nelle nostre mani da questo punto di vista qui di noi donne ma anche degli uomini e molto conta anche il nostro ruolo di tutti noi di educatori non solo chi è genitore tutti noi in qualche modo lo possiamo essere anche semplicemente con la nostra vita con il nostro esempio con le parole che scegliamo e con i gesti e i fatti che compiamo tutti i giorni e mi piace che ci sia questo grande senso di comunità e di responsabilità negli interventi che leggo in cui tutti si sentono molto responsabili da questo punto di vista di questo impegno per il futuro quindi ci lasciamo comunque con una ventata di ottimismo nonostante le difficoltà di trovare punti di convergenza sapendo che appunto l'impegno è faticoso la strada è in salita però per fortuna sappiamo anche che non ci mancano fiato energia e idee per proseguire in questa salita quindi a presto spero con Linda Laura Sabbadini e spero anche con molte delle persone che ci hanno seguito oggi in questo primo incontro della primavera delle idee ne seguiranno sicuramente altri già nei prossimi giorni una buona serata a tutti grazie mille per l'invito e ciao a tutti